E-book Cantu batte Como. Il libro trasformato in bit vince nel cuore della città del mobile. La rivoluzione del digitale sta cambiando volto e sostanza al mondo dei media. L'ultima notizia rilevante è l'acquisto del mitico quotidiano Washington Post, quello che fece dimettere con le sue inchieste sul caso Watergate il presidente repubblicano degli USA Richard Nixon da parte di Jeff Bezos, fondatore e amministratore delegato della società di e-commerce Amazon. Il digitale si appresta a cambiare le carte in tavola, anche se con altre dinamiche, nel mondo del libro. Il sistema bibliotecaro di Cantu se ne è accorto prima di quello cui fa capo Como. Infatti ha deciso di aderire già dall'anno scorso al progetto multimediale Media Library Online, libri in formato e-book da prendere in prestito, ma anche periodici e giornali che possono arrivare direttamente sul pc di casa, sul portatilo o sul tablet, pescati da un apposito server dove giacciono per un determinato limite temporale. E così la biblioteca, che un tempo era considerato un luogo del sapere vetusto e polveroso, e magari anche lontano e disagevole, oggi diventa una nuvola, un cloud, da cui attingere i dati che ci servono. A Media Library Online fanno capo non solo la biblioteca di Cantu, intitolata al pittore e scrittore brianzolo Ugo Bernasconi, ma anche altre 24 strutture della Brianza Lariana. Un progetto pilota per il Comasco, dato che chi si è iscritto al sistema bibliotecaro di Como, che nel frattempo si starebbe attrezzando per avere lo stesso servizio nei prossimi anni, può aderire liberamente, mandando una mail con nome, cognome e codice fiscale all'indirizzo di posta elettronica bibliotecaetcomune.cantu.co.it